Sta piovendo e per caso passi davanti la fermata dell'autobus Ci sono tre persone lì, ovvero il tuo migliore amico Una donna incinta che sta per partorire E la ragazza dei tuoi sogni Tuttavia sulla tua Smart ci sono solamente due posti Che cosa faresti? Oh lo so, so cosa fare! Prima presto la mia macchina al mio migliore amico Così lui potrà portare la signora incinta all'ospedale, dico bene? Così che io possa rimanere alla fermata del bus con la ragazza dei miei sogni No, te ne torni a casa e... Rivaluti la tua fottutissima vita! Ti sei comprato una cazzo di Smart!